Ciao bambini, benvenuti al grande spettacolo degli amici di Guido, vi presenteremo oggi una storia sul giovedì santo, una storia che si intitola Hotel Paradiso, dovete sapere che tanti anni fa in un paese tipo questo vivevano tante persone e tra queste c'era anche un uomo che si chiamava Andreino, anzi come lo chiamavano tutti Nonno Andreino, perché Nonno Andreino era un uomo buono, era stato buono fin da giovane, aveva sempre cercato di seguire gli insegnamenti di Gesù Ciao, anche adesso che sono quasi cieco, cari bambini, sono veramente amico di Gesù però c'è una cosa che non ho mai capito bene, quel giorno in cui lui, il Maestro, il Signore, il Figlio di Dio ha lavato i piedi ai discepoli che erano tutti sporchi e bustolenti, quella cosa lì proprio non l'ho mai capito proprio bene, ma dovete sapere che un certo giorno nonno Andreino gli venne una malattia e purtroppo morì e fu portato subito in paradiso da un angelo bellissimo, il famoso angelo azzurro Andreino, vieni, vieni con me che ti porto su, 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 in paradiso e Andreino arrivò in paradiso e l'angelo gli disse, guarda, il paradiso è come un grande hotel un hotel bellissimo, con dei marmi preziosi, pieno di stanze, grandi, spaziose, piene di gente con tutti i santi che lo salutavano, Andreino, benvenuto, ciao Andreino e lui però non conosceva tutti, ma tutti sembravano conoscerlo, perché nel paradiso tutti conoscono tutti e c'era Abramo, c'era Mosè, c'era Davide, c'era Giovanni Paolo II, Madre Teresa di Calcutta e tanti, tanti santi e tutti lo salutavano e lui un po' stordito perché era arrivato, pensate un po', con una valigia grandissima, una valigia pesantona, pesantona, oh ma dove posso mettere questa mia valigia? Nel men che non si dica arrivò un giovane fattorino molto servizievole che subito si offrì di prendere la valigia di nonno Andreino nonno Andreino, non ti preoccupare, te la porto io! Tutti salutavano quel ragazzo così affabile che aveva portato le valigie di tutti, pensate un po', dei giovani, degli anziani, sì perché a me piace fare questo lavoro! Nonna Andreino però voleva conoscere il mistero che da tempo lo tormentava, come mai Gesù aveva lavato i piedi ai discepoli e andava in giro a chiederlo e tutti dicevano ma io forse non lo so bene, non ho ancora ben capito, a un certo giorno, a un certo punto addirittura incontrò lui, San Pietro e disse, nonno Andreino, ho capito cosa stai cercando? Vai su dalla signora, lei te lo saprà dire, dalla signora, sapete bambini, la signora è Maria, è la mamma di Gesù che sta là in paradiso, ciao bambini, ciao nonno Andreino, benvenuto, guardate com'è bella, oh sai, qui siamo molto occupati perché cerchiamo di far venire in paradiso più gente che si può e allora gli diamo delle indicazioni, gli diciamo di continuare a leggere il Vangelo, di continuare a studiare, a studiare, oh che bello così anche i miei nipoti potranno trovare questa strada, sì e poi tante altre belle cose le insegniamo ma io ho capito che tu vuoi conoscere mio figlio? Sì, sì è lui che gli devo chiedere una cosa, ma l'hai già incontrato Andreino, è il primo che hai visto quando sei arrivato, sì cari bambini perché il primo che si incontra in paradiso è proprio lui Gesù che in questo hotel aveva preso le valigie di tutti perché a Gesù piace prendere l'ultimo posto come fece quel giorno per far capire agli uomini che lui era disposto a tutto pur di volergli bene, chi è l'ultimo diventerà il primo e con questo abbiamo finito, ci vediamo domani, ciao ciao!